Quindi con questo do volentieri la parola a Francesco Zizzola per poi chiudere assieme con veramente un sentimento che mi viene da questa mattina importante. Bene, grazie Mario. Io chiedo scusa ma sono obbligato dall'emozione a leggere perché altrimenti non potrei assicurare il mio intervento. Comunque è brevissimo. Dunque sono passati 50 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II e in questa ricorrenza ci è sembrato opportuno portare alla memoria il ruolo che il nostro padre Giancarlo ha avuto in questo straordinario periodo per la Chiesa. Nel dicembre del 1961, aveva allora 24 anni, dal Veneto papà si è stabilito a Roma con mia madre perché è chiamato appositamente per seguire il Concilio. Sono stati anni difficili per i giornalisti che hanno dovuto lottare per informare sul Concilio. C'era allora una radicale diffidenza della Chiesa verso la stampa come abbiamo potuto ascoltare dagli interventi che mi hanno preceduto e le presenze in questo convegno di validi giornalisti vaticanisti lo potranno testimoniare. Nel suo libro Santità e Potere Giancarlo, papà, descrive tutte le fasi di questa complessa realtà conciliare. In tutta la sua attività letteraria e giornalistica ha sempre condiviso gioie e dolori di questa Chiesa e come testimone del tempo del Concilio fu sempre preoccupato di conservarne lo spirito sempre coerente con se stesso. L'insegnamento universitario presso la Cattedra di Etica della comunicazione all'Università di Padova rappresenta la sintesi del suo lungo itinerario culturale. Diceva ai miei allievi cerco di trasmettere soprattutto il messaggio di una verità comunicativa. La verità si costruisce nella relazione, nel dialogo, nel confronto costante con l'altro e il senso dell'etica lo si acquisisce rapportandosi con il prossimo. Diceva anche è importante tenere vivo il colloquio tra le generazioni per recuperare la memoria storica così da sviluppare una cultura della pace. Per tutelare la memoria storica dell'opera di mio padre, per promuovere gli ideali di equità, giustizia sociale e libertà critica a cui la sua opera si è sempre ispirata. Per organizzare la conservazione della sua biblioteca, degli archivi e dei suoi materiali di studio, la famiglia ha costituito l'associazione culturale Giancarlo Zizzola per un futuro possibile. Il nome dell'associazione proviene dal titolo di un suo libro del 1987, una raccolta di interviste in cui sollecitava l'apertura dei nuovi orizzonti al futuro possibile, ma anche da una memoria di un incontro che mio padre ebbe con il cardinale Michele Pellegrino che gli disse a proposito della riforma della chiesa avviata dal concilio Vaticano II e delle opposizioni anche dure che si stavano delineando all'orizzonte, diceva l'impazienza rovina tutto, le cose maturano lentamente come queste piante, a noi basta avere la grazia di averle iniziate, la nostra è la generazione fortunata cui è toccato iniziare e siamo debitori di tanti che hanno iniziato prima di noi nelle lacrime. Siamo iniziatori perché abbiamo raccolto, bisogna che ritroviamo il senso ampio di questo continuum che ci salda al passato e al futuro, nella continuità e nella speranza. Questo convegno rappresenta la prima significativa iniziativa coerente con gli scopi dell'associazione culturale, così come la decisione della famiglia Zizzola e dell'associazione Giancarlo Zizzola di affidare l'archivio e la biblioteca di Giancarlo per la consultazione e la conservazione dei loro fondi alla biblioteca della comunità di Sant'Egidio che ha sede proprio in questo palazzo, Palazzo Leopardi e che è gestita insieme alla fondazione Remo Orseri per la collaborazione culturale tra i popoli. La famiglia Zizzola desidera esprimere agli amici della comunità di Sant'Egidio, in particolare ad Andrea Riccardi in rappresentanza di tutti, un sentito ringraziamento per averci sostenuto con sincero affetto in questo difficile anno sin dai giorni di Monaco e per aver collaborato all'ideazione dell'associazione Giancarlo Zizzola per un futuro possibile e di questo primo convegno. Altre iniziative verranno promosse dall'associazione, nel prossimo futuro sarà pubblicato un volume a cura di Paola Springhetti che raccoglierà le lezioni che mio padre teneva all'Università di Padova, così pure seguiremo con attenzione lo sviluppo ad opera del Luxi del progetto Media Etica di cui papà era appassionato promotore. Altre opere inedite lasciate praticamente compiute dentro il suo decrepito computer su cui mio padre lavorava saranno pubblicate nel corso dei prossimi anni. E' nostra intenzione altresì cercare un sostegno per creare nel corso dei prossimi anni una borsa di studio che permetta la ricerca a livello universitario sui materiali lasciati da papà e anche in questo caso lo scopo è quello di promuovere la memoria di papà e gli ideali a lui cari. Abbiamo appena messo online il sito dell'associazione culturale Giancarlo Zizzola che potete visitare all'indirizzo www.futuropossibile.org che ha lo scopo di raccogliere e rendere disponibili le informazioni sulle attività dell'associazione, di offrire le informazioni sintetiche sulla vita e le opere di mio padre, di raccogliere gli scritti che sono stati prodotti a proposito di lui. E' in preparazione anche una sezione che raccoglierà i materiali audio e visivi che negli anni sono stati prodotti dai numerosi media con cui mio padre collaborava. Sempre attraverso il portale web sarà possibile richiedere di diventare soci e sostenitori dell'associazione Giancarlo Zizzola per un futuro possibile. Prima di salutarvi vorrei ringraziarvi per essere intervenuti qui oggi, ringraziamento a nome mio, dei miei fratelli e di mia madre Lina e segnalare che è possibile, adesso metteremo un quaderno qui sul tavolo, è possibile lasciare il vostro nome e il vostro indirizzo per poter essere contattati poi dall'associazione e così ricevere aggiornamenti sulle nostre attività. Grazie. Grazie Francesco, come avete visto al di là dell'emozione e del fatto che ha voluto e dovuto leggere non è vero che non sa scrivere Francesco, che sa fare solo le fotografie. Io vorrei concludere questa giornata, questa mattina speciale in maniera molto semplice. La prima cosa è dire che è anche la gioia, la contentezza che viene dalla responsabilità di rendere utilizzabile a tanti, di conservare in maniera attiva, propositiva, il fondo degli scritti ma anche della biblioteca di Giancarlo Zizzola. Perché come l'opera di Giancarlo e soprattutto come il concilio tutto questo è vivo, è vivo e serve a tanti. Avete visto come il concilio sia vivo? È vivo nelle imperfezioni, è vivo perché ancora oggi sentiamo nell'intervento di Gianfranco Sviderkoski come lui fosse di più dalla parte dell'episcopato francese che di quello tedesco e la Cautum Espes è un risultato straordinario, un regalo a tutto il mondo e non solo ai cristiani del dopo concilio. Questo concilio vivo noi l'abbiamo percepito, l'abbiamo sentito e è viva la memoria di Giancarlo Zizzola e del suo lavoro anche nelle sue imperfezioni. Come si fa a scrivere un libro da innamorato e da storico? Quello che secondo me è la bellezza anche di questa mattina è uno sforzo autentico di ricerca storica e ci sono stati contributi di storici ben autorevoli che hanno dedicato tempo, lavoro e interpretazione all'opera di Giancarlo Zizzola e al tempo stesso Giancarlo Zizzola non ne esce come un uomo perfetto, il giornalista perfetto perché questa è l'opera dello storico, è il giornalista, è l'uomo che molti di noi hanno amato, rispettato, ammirato ma sicuramente non ne esce come il giornalista, il tipo del giornalista perfetto e questo secondo me è un servizio che noi facciamo anche a Giancarlo Zizzola, quanti vogliono seguirne l'esempio nel raccontare le vicende del mondo e le vicende della Chiesa, nello spiegare l'uno all'altro. Giancarlo Zizzola aveva un vezzo, io credo, lo saprà meglio la famiglia ma secondo me io non ho mai capito perché su tutti i libri che lui ha scritto c'è scritto nato a Treviso e invece è nato a Montebelluna e lui tendenzialmente dovrebbe essere stato uno attento ai dettagli e ai particolari e poi Montebelluna casomai valdobbiatene ma Treviso si vede che evidentemente anche quello era già un lavoro di traduzione, lui pensava che uno di Montebelluna forse era meno preso sul serio di uno di Treviso e poi è una vicenda che effettivamente si intreccia con il concilio ma direi sotto il segno, come lui lo sentiva, della grazia, cioè quando lui racconta di questo suo viaggio dalla casa paterna nel camioncino con alcune cose, con un orologio che era attaccato al muro che viene regalato come bene prezioso dal papà mentre sale sul camioncino e poi di questo lungo viaggio verso Roma e si arriva a notte inoltrata perché l'autostrada del sole non era tutta completata, racconta di questo camion francese che era davanti a loro e dove c'era scritto freni potenti in francese e quindi commentano andando piano e l'altro piccolo guidatore di camioncino spiega che i freni potenti servono ma che certo se tu li usi tutto il tempo si arroventano e poi fanno l'effetto contrario e scrive nella sua biografia di fatto Santità e Potere Giancarlo Zizzola dice io pensavo al fatto di questa chiesa dopo il modernismo con i freni tirati troppo a lungo allora forse non ho idea se quello che scrive in quella pagina fossero davvero i pensieri in quel momento comunque non lo so ma di certo lui percepisce che la scelta di Giovanni XXIII di rivolgersi a un giovane di 24-25 anni per essere il primo scelto giornalista che si dovrà occupare in particolare del concilio Vaticano II lui lo sente come una grazia personale. Ecco io credo che in questo senso lui è sempre stato un grande raccontatore un uomo che ammirava il giornalismo magico di Indro Montanelli pur pensandola in maniera completamente diversa su tante cose come su lui si definiva uno di sinistra ma della sinistra piave cioè da quella parte del piave dove non si dovevano essere i ponti che avrebbero portato alla perdizione quelli che avessero attraversato il piave fossero andati verso il mondo corruttore dove si ballava troppo. Bene quell'uomo della sinistra piave però è sempre stato un uomo che si è sempre sentito a suo agio con gli umili con i più deboli con quelli che facevano la fatica della terra ecco io credo questo personaggio è un personaggio a tutto tondo che per molti di noi è un amico per qualcuno un maestro per alcuni una dolorosa assenza e una straordinaria presenza in tanti altri modi un giornalista capace anche di diventare storico e scrittore beh comunque sia come il concilio Vaticano II del tutto vivo e del tutto da vivere. Grazie 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 a tutti.